come verniciare infissi in pvc ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con i sistemi a bisacchi gli infissi in pvc non è possibile verniciarli o meglio è possibile farlo ci sono alcune aziende che lo fanno hanno sviluppato una tecnologia particolare derivata dall'automotive dove si può verniciare una barra di pvc prima di costruire la finestra ma una volta che la finestra è costruita il pvc non può essere verniciato o meglio se lo provi a verniciare sia a scruzzo che a pannello ottieni dei risultati veramente pessimi quindi non come l'infisso in legno che è possibile praticamente ripristinarlo anche dopo dieci anni vent'anni cinquant'anni il pvc una volta che si è scolorito che si è danneggiato che la pellicola sopra si è rovinata è ora di sostituirlo quindi se devi sostituire i tuoi infissi e vuoi un consiglio su quale tipo di infisso è meglio scegliere sulla poso in opera su quale tipo di vetro e sei lontano da gambettula che è la nostra sede perché anche se siamo abbastanza grandi non possiamo servire tutta l'italia ho ideato un servizio di consulenza dove posso aiutare chi come te deve scegliere i nuovi infissi puoi saperne di più su www.blogbisacchi.it dove puoi richiedere la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video